Due anni di permanenza all'Aquila intensi, ricchi di emozioni, di risultati operativi conseguiti alla guida del nono alpini, ma anche di un dolore condiviso con i suoi uomini per la scomparsa di due alpini del nono reggimento. Così, con il cuore colmo di emozione, il colonnello Massimo Iacobucci Abruzzese lascia l'Aquila e il comando del reggimento al parigrado Antonio Sedia. Vado via con tanti ricordi, prima di tutto perché l'esperienza di comando di reggimento è l'esperienza più bella per un ufficiale. Poi soprattutto farlo qui al nono reggimento alpini, io che sono un abruzzese, è ovviamente un'esperienza doppia. Nel mio periodo di ricomando ho tantissimi ricordi. Il primo ricordo ovviamente va ai miei due alpini, il primo caporal maggiore Giovanni De Giorgi e il primo caporal maggiore Massimiliano Cassa che sono deceduti il 14 novembre 2014 sul Gran Sasso mentre effettuavano un'attività di fuori servizio, un'attività di escursione in montagna. Quindi il mio primo pensiero va a loro. Poi ovviamente ci sono stati anche altri momenti belli del mio comando e soprattutto non posso non ricordare l'ottantottesima donata degli alpini che si è svolta a maggio scorso. Una bellissima manifestazione, un bellissimo evento per il nono reggimento alpini, per la città dell'Aquila e direi soprattutto per la regione dell'Abruzzo, per l'enorme successo che ha avuto. Che incarico andrà a ricoprire adesso? Adesso tornerò allo stato maggiore dell'esercito con incarico di capo ufficio presso il reparto impiego delle forze. Per il colonnello Sedie si tratta di un ritorno nella città dell'Aquila. Fu infatti già comandante di compagnia nel nono reggimento alpini. Sicuramente un piacevolissimo ritorno. Per me sarà un'ora comandare questo prestigioso reggimento. Soprattutto dopo il periodo trascorso da comandante di battaglio, si è stretto un legame fortissimo con la città che mi è rimasta nel cuore. Anche per il servizio prestato a favore della città con strade sicure nel posto terremoto.